salve a tutti amici ben trovati nella nostra rubrica di approfondimento settimanale la settimana che si chiude oggi è stata una settimana in cui molti dei dei leader e dei beniamini del mondo globalista del mondo liberal sono improvvisamente caduti in disgrazia o hanno fatto pessime figure a cominciare da quello che è il pupillo del dell'occidente globalista e cioè il presidente ucraino zelensky che dopo la questione del missile presunto tale caduto in polonia ha perso molto molto della sua credibilità e ormai anche molti all'interno del mondo cosiddetto progressista iniziano a dubitare del del suo ruolo e della sua spendibilità internazionale la stessa cosa è successa per certi aspetti al presidente francese macron che è indicato dalla sinistra nostrana come un modello come un fare come una guida che sulla questione di cui si è parlato moltissimo dei migranti ha fatto una gran figura di tolla soprattutto facendola fare alla stampa nostrana e la stessa cosa è avvenuta al deputato della sinistra italiana suma oro che è rimasto coinvolto in una bruttissima storia di sfruttamento degli immigrati di tutto questo parliamo tra pochissimo io sono arnaldo vitangeli e questa è 7 più cominciamo con la situazione in ucraina la realtà sul campo per gli ucraini è davvero difficilissima il 50 per cento del della popolazione è senza elettricità e l'inverno che in quella nazione è particolarmente rigido si preannuncia davvero difficilissimo ma il il punto su cui bisognerebbe bisognerebbe soffermarsi è in particolare invece di natura politica e riguarda la credibilità del suo presidente zelensky come tutti quanti sapete per mesi ormai zelensky è stato presentato come una sorta di eroe come un dono del cielo agli ucraini e come per certi aspetti addirittura un leader a cui tutto l'occidente doveva guardare non solo con ammirazione ma anche con gratitudine la questione del missile se di missile si è trattato caduto in polonia ha cambiato profondamente questa questa narrazione ormai anche nella stampa mainstream perché i fatti sono questi c'è stato c'è stata la famosa esplosione attribuita ad un missile in in polonia al confine con al confine con l'ucraina e in una prima fase immediatamente zelensky ma anche vari leader occidentali tra cui alcuni alcuni uomini politici italiani hanno attribuito questo questa esplosione a un un missile lanciato dalla russia nell'arco di poche ore si è compreso come questa interpretazione non avesse nessuna base come fosse proprio tecnicamente impossibile che fossero stati i russi a lanciare il missile in ogni caso l'immediata l'immediata accusa da parte di chiev e del suo presidente che avrebbe potuto far scattare l'articolo 5 della nato e quindi provocare nei fatti una guerra mondiale termonucleare ha modificato un pochettino il modo in cui la gente comune ma anche i media guardano a zelensky mi ha colpito particolarmente l'intervento di marco travaglio sul fatto quotidiano del direttore del fatto quotidiano sulla 7 in cui appunto questo giornalista ed editore di una delle principali testate nazionali per molti aspetti anche eminenza grigia o comunque personaggio estremamente influente all'interno del movimento 5 stelle ha affermato che di zelensky non ci si può affidare e che è irresponsabile ma dichiarazioni dello stesso stampo sono state fatte dal dal leader dai leader politici di vari paesi tra cui l'ungheria la spagna e di fatto il l'aver ingiustamente accusato mosca di un attacco che non non aveva compiuto ma soprattutto l'aver tentato deliberatamente di scatenare una terza guerra mondiale coinvolgendo la nato all'interno della guerra tra la russia e l'ucraina ha minato molto profondamente la credibilità di zelensky e ormai in tanti stanno iniziando anche esplicitamente a dire le cose che prima venivano invece solamente sussurrate o dette all'interno di circoli molto limitati e cioè che da un lato la vittoria militare di chiev con la cacciata di tutti i russi è irrealistica dall'altro che il tentativo costante continuo di zelensky di amplificare il conflitto di aumentare l'esposizione dei paesi non direttamente coinvolti nello scontro con con mosca è estremamente pericolosa anche negli stati uniti si è visto ne abbiamo parlato anche nell'ultima puntata dei multipolari un netto cambio di rotta con le affermazioni del pentagono sulla improbabilità di una vittoria dell'esercito ucraino anche perché il costo economico e non solo che l'occidente sta pagando è molto alto e in in questo contesto in questa situazione alcuni leader politici italiani come calenda come renzi ma come lo stesso letta sono rimasti per certi aspetti con il cerino in mano hanno fatto i guerrafondai più ancora del dei leader di gran bretagna e di stati uniti mostrandosi più realisti del re e ora che l'immagine di zelensky è così profondamente appannata e l'america in qualche misura sta iniziando a allontanarsi dal dal supporto senza sé e senza ma al leader di kiev iniziano rischiano di trovarsi letteralmente con con il cerino in mano tanto più che l'opinione pubblica italiana è sempre stata profondamente contraria al coinvolgimento del nostro paese in una guerra che non ci riguarda e che ci danneggia e basta ma soprattutto in quelle ore in cui la stampa senza vergogna titolava missili russi sulla Polonia tutti noi abbiamo pensato di essere abbiamo avuto un brivido sulla schiena pensando di essere prossimi a un conflitto nucleare l'aver scoperto che si trattava di una menzogna deliberata e forse addirittura di un tentativo voluto di allargamento della guerra ha modificato molto profondamente la percezione di questo attore di questo comico improvvisamente trasformato in statista da registi che lo manovrano e che lo hanno messo in in quel ruolo che evidentemente non è non è in grado di ricoprire quindi un una profonda trasformazione del della visione che l'opinione pubblica e la stampa una parte dell'opinione pubblica perché c'è una parte che invece ha sempre ha sempre guardato con profondo sospetto alla propaganda bellicista ma comunque anche quella parte che invece approvava il il tentativo di schiacciare la russia o comunque il supporto senza sé e senza ma all'esercito ucraino dimenticando tutte e o ignorando proprio tutto quello che era successo negli anni precedenti e le vere ragioni per cui la russia è entrata nel nel territorio ucraino stanno iniziando a vedere che la caduta di putin non c'è la la distruzione economica della russia non avviene anzi la russia ha avuto un una bilancia commerciale in con un attivo record mentre noi paghiamo un prezzo economico fortissimo e le sparate di questo nel senso proprio e figurato di questo presunto statista difensore della libertà e della democrazia rischiano di allargare in maniera incontrollabile il conflitto e quindi il numero dei supporter per usare un termine anglosassone di zelensky sia per quello che riguarda i leader politici sia per quello che riguarda le persone comune e comuni è drasticamente calato altra notizia di grande impatto in questa settimana è quella che riguarda le proteste sempre più diffuse in iran la persia quella che un tempo fu la persia sta attraversando una fase di forti proteste politiche iniziate con la morte di una ragazza accusata di non indossare in maniera corretta il velo portata in caserma e mai uscita in quanto in quanto morta all'interno all'interno della stazione di polizia questo gravissimo episodio ha portato a delle proteste represse con brutalità che però non si sono spente ma anzi continuano a dilagare c'è stata anche l'incendio della casa musea museo di comeini il religioso che è stato l'ideatore il realizzatore della rivoluzione islamica in iran il l'attuale dirigenza iraniana continua la repressione con il pugno di ferro e sostiene che ci siano gli occidentali servizi occidentali dietro quella che dal loro punto di vista è l'ennesima rivoluzione colorata da un lato questo con ogni probabilità anzi sicuramente è vero c'è però da sottolineare un altro elemento cioè sia la gravità di quello che è avvenuto e che non è un episodio isolato cioè la morte di una ragazza la cui unica colpa era quella di non indossare correttamente un indumento imposto dal dal regime ma soprattutto la mancanza di libertà in un paese così vasto così colto e così ricco sotto molti certi aspetti è un elemento che inizia ad essere davvero confliggente e va sottolineato come il caso iraniano ci impone una riflessione profonda perché tendenzialmente tutti noi siamo portati a schierarci in maniera per certi aspetti ideologica da una parte o dall'altra chi fa informazione o chi si o chi si rivede in un in una profonda contestazione dell'attuale sistema neoliberista tende inevitabilmente a solidarizzare con quei paesi come lo stesso iran che sono il bersaglio del dell'impero neocoloniale anglosassone e del e delle mire espansionistiche del mondo neoliberista dall'altro lato non possiamo non pensare che vivere in un paese in cui in cui il semplice fatto di indossare in maniera non conforme un indumento possa possa portarti in carcere o addirittura alla morte dovrebbe spingerci a una riflessione un pochettino più profonda quello che a me è venuto in mente il pensiero che io ho avuto e che e che ho nei confronti di quello che sta avvenendo in iran è una riflessione che è presente in uno dei capolavori della nostra letteratura cioè i promessi sposi in cui il manzoni si chiede se chi fa il male è responsabile esclusivamente dei danni che provoca o anche della perversione che genera nelle sue vittime che innesca appunto una spirale in cui il male continua a diffondersi perché dico questo perché l'attuale regime iraniano che da un lato si contrappone in maniera eroica all'imperialismo americano ma dall'altro preclude e le libertà di una parte maggioritaria dei propri cittadini è l'effetto del degli dello stesso tentativo imperialistico occidentale quando un leader invece laico e nazionalista come mussadek fu defenestrato permettere per rimettere sul trono lo shah perché faceva una politica appunto nazionalista di tutela dell'interesse nazionale e non di agevolazione degli interessi delle multinazionali del petrolio e degli stati uniti questo crimine che risale agli anni 70 è alla base della della nascita del regime teocratico in iran che come tutti i regimi teocratici non 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 contempla la libertà individuale neppure nelle forme minime e basilari che per noi occidentali sono assolutamente irrinunciabili quindi prima di di schierarci prima di di prendere un per partito preso e in maniera acritica le parti di una o delle alti o dell'altro contendente dovremmo riflettere sulle responsabilità che l'occidente ha avuto non soltanto nel nel portare avanti una politica imperialista ma nel creare le condizioni per un instabilità che in molti paesi ha generato regimi da un lato anti imperialisti ma dall'altro violenti e repressivi il secondo leader che è beniamino dei dei globalisti nostrani e non solo che ha fatto un una gran brutta figura è macron perché perché macron ha attaccato sempre la i tentativi quando ci sono stati dell'italia di alcuni governi italiani di limitare l'immigrazione clandestina spacciata per soccorso ai profughi era successo negli anni precedenti con con il governo giallo verde ed è successo nuovamente quando il nuovo governo di giorgia meloni ha cercato di bloccare gli sbarchi dei dei clandestini traghettati da navi di sedicenti organizzazioni non governative macron e i francesi hanno sparato a zero sull'italia criticando l'inumanità del nostro governo e la stampa nazionale oltre che i leader dei partiti globalisti in generale si si accodavano alla narrazione del presidente francese in particolare sostenendo che gli sbarchi selettivi fossero qualche cosa di inumano e assolutamente inaccettabile peccato che macron abbia fatto la stessa identica cosa con quell'unica nave con a bordo circa 250 migranti clandestini teoricamente profughi che ha accettato di far attraccare in un porto in un porto francese di quei 250 oltre la metà sono stati respinti e quindi non hanno potuto toccare il suolo della terra dei cugini d'oltralpe la stessa identica cosa che ha cercato di fare la meloni accusata da tutta la stampa nazionale di essere una una fascista e di calpestare il diritto internazionale e le basi dei diritti umani le ha fatto macron con una differenza sostanziale e cioè che mentre l'italia si trova a fronteggiare un flusso incontrollabile e costante anche anche oggi una carretta del mare con 500 disperati è stata soccorsa da un ONG che vuole sbarcare il carico umano sulle nostre coste in Francia invece la situazione non è neanche lontanamente paragonabile eppure quell'unica nave che come gesto simbolico è stata fatta dirigere verso le coste francesi non ha potuto sbarcare quel numero così esiguo di 250 passeggeri perché Macron perché il governo francese ha rifiutato a più della metà di loro di poter trovare alloggio in in Francia di poter scendere sul suolo francese cosa che invece pretendeva facesse l'italia non solo con quei 250 ma con le decine e decine di migliaia che regolarmente arrivano sulle nostre coste traghettate dalle ONG. Sono curioso di sapere che cosa diranno a questo punto i soloni di Repubblica, del Corriere, della Sette, la Gruber e tutto il circo che da un lato magnifica Macron come leader globalista ed europeista, dall'altro lato attacca chiunque in Italia osi in una situazione molto più grave di quella che vive la Francia dal punto di vista dell'immigrazione clandestina porre un freno come riusciranno a salvare capra e cavoli quindi continuare a tessere le lodi del banchiere Rochil divenuto presidente della Repubblica Francese e continuare a condannare chi in Italia si tratti della Meloni o si tratti di qualcun altro cerca in qualche modo di limitare un fenomeno ingestibile come l'immigrazione clandestina gestita dagli scafisti e dalle ONG. E a proposito di immigrazione non possiamo non parlare del caso Sumahoro, credo che si pronunci così, cioè il deputato italiano della sinistra che è stato presentato come un campione della lotta degli ultimi contro lo sfruttamento della lotta contro il razzismo, contro il neofascismo di quanti cercano di porre un freno all'immigrazione che è stato nella fase del governo giallo-verde glorificato come il contraltare di Salvini con una vera e propria ageografia e che ora è rimasto coinvolto in una squallida storia di sfruttamento che riguarda cooperative facenti capo alla compagna e alla madre. Queste cooperative sono al centro di un'inchiesta perché a Latina dove si trovavano sono accusate di uno sfruttamento selvaggio e violento dei profughi che venivano affidati a queste strutture che per ragioni economiche accoglievano quante più persone possibili ma tenendoli in una condizione di assoluto disagio e con tutta una serie di possibili reati che vengono ipotizzati dalla magistratura che ora è chiamata ad indagare su quello che è successo. D'altronde tutto questo ci ricorda le frasi che sentivamo nelle intercettazioni telefoniche nel caso della Roma di mezzo cioè quella sorta di mafia che diceva che con i migranti si fanno più soldi che con la droga. Ovviamente il deputato sostiene che è totalmente estraneo e chiaramente dice che si tratta di un complotto, che hanno paura di lui perché difende gli ultimi, perché è una sorta di messia contro il razzismo e per i diritti degli sfruttati. Fatto sta che in molti sostengono che dietro questa retorica così poco credibile ci sia invece una conoscenza del fenomeno anche perché possiamo leggere sui giornali che tutti a Latina erano a conoscenza, Latina è una piccola città di 100.000 abitanti, tutti sapevano cosa succedeva in quelle strutture, tutti sapevano le condizioni in cui questi poveri disperati, che però sono un business gigantesco per chi li gestisce, vivevano. Risulta molto difficile pensare che l'unico che non sapeva nulla di tutto questo era proprio Sumahoro il quale viveva con coloro che in queste strutture lavoravano e che queste strutture gestivano, che si occupa proprio della difesa, così dice lui, della lotta contro lo sfruttamento, ma non si accorgeva che proprio sotto il suo naso una fonte di sfruttamento feroce fosse presente, che avvenisse proprio sotto i suoi occhi, ma lo sapevano tutti in quella zona tranne che lui. Ovviamente tutto questo ci fa pensare a quanto ipocrita sia la posizione di chi, come noi diciamo da sempre, si nasconde dietro ragioni idealiste, parla di diritti umani, di accoglienza, eccetera, ma in realtà utilizza esclusivamente la condizione di bisogno in cui si trovano queste persone per fare soldi, ma soprattutto a livello politico, a livello più ampio, si nasconde dietro il buonismo e si nasconde dietro una finta difesa dei diritti umani, che servono invece esclusivamente per rafforzare una differenza di potere, per rafforzare un sistema di sfruttamento a livello capitalistico, perché attraverso la deflazione salariale, attraverso la disgregazione sociale, eccetera, per i vertici di questo sistema capitalistico è molto più semplice continuare questa forma di dominio laddove si riempiono i paesi di persone disposte ad accettare lavori a un costo bassissimo, quindi ad accettare un livello di sfruttamento altissimo, perché in questo modo si ricattano anche tutti gli altri e anche perché attraverso la disgregazione sociale, attraverso la trasformazione di società coese in gruppi di persone che non parlano neppure la stessa lingua e non hanno nessuna visione comune, si polverizza la società e quindi si rende tutto molto più facilmente dominabile in base a quel divitet impera che dall'impero romano è passato all'impero anglosassone e poi in generale al sistema piramidale di controllo globalista. Era l'ultima notizia per questo 7 e più, io come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo che se volete contribuire al canale in descrizione ci sono tutti i link e vi do appuntamento con 7 e più alla settimana prossima, grazie a tutti. Grazie a tutti i link per dare il tuo contributo.